Il canto d'ingresso della Santa Messa La cosa è iniziata tre anni fa con la lettura di un diario di una santa mistica che ha riacceso nel mio cuore un po' il desiderio di vivere più profondamente la comunione con il Signore e poi la conoscenza del monastero di Subiaco lì con la frequentazione con un monaco in modo particolare, Don Mariano che è uno scrittore, ha scritto tanti libri di santi e scrive anche sul foglio della Domenica molto spesso si ritrovano le sue preghiere o i suoi commenti alle letture e poi con il padre Abbate di Subiaco che poi mi hanno indirizzato a Casalbordino per continuare un cammino di formazione e lì poi si è determinata la mia scelta facendo proprio la scelta di Casalbordino del monastero dei Miracoli e non potevo scelere qualsiasi altro monastero nel territorio italiano però ho fatto la scelta dell'Abruzzo perché se noi abruzzesi non sosteniamo la presenza dei Benedettini in Abruzzo, chi ci deve venire da noi? ecco allora ho fatto la scelta e poi mi lasciano anche il mio lavoro già da 15 anni del tribunale ecclesiastico e dell'insegnamento al seminario quello posso continuare a fare la comunità parrocchiale che da sei anni or sono l'accompagnato e sostenuto oggi ha voluto salutarlo con una santa messa e poi con un momento conviviale anche il comune di Sulmone in mattinata ha conferito a sacerdote una medaglia in segno di riconoscenza e gratitudine lascio Sulmona ma continuerò a stare vicino a questa comunità con la preghiera rassicura Don Maurizio ora avrò molto tempo da dedicare al Signore e mi ricorderò di quanti in questi anni ho conosciuto intanto è stato già annunciato il nome del nuovo parroco della cattedrale e Don Domenico Villani classe 1982 attuale parroco di Pettorano sul Gizio Don Maurizio lancia così un messaggio di speranza a suo successore e lo invita ad esercitare un ministero di paternità e misericordia la gente ha bisogno di vedere noi i ministri di un dio crocifisso è risorto ma è passato per la croce perciò andare incontro a tutte le sofferenze morali, spirituali, fisiche e essere loro compagno di vita l'augurio a Don Domenico che io conosco benissimo in quanto qui in questa cattedrale ha esercitato l'ultimo anno di preparazione al sacerdozio ci ha fatto qui il tirocinio da diacono ecco facciamo anche lui già conosce questa comunità e già la comunità conosce lui per cui ci sarà una bella successione dove ecco questo distacco con me e la parrocchia si sentirà di meno perché lui sarà in grado di mantenere tutto quanto quello che già c'è e di continuare ad andare avanti